The Sims 4 Vita in Città Siamo risolti, io tra l'altro ho dovuto anche riparare il gioco perché comunque c'erano un po' di problemini E' stata aggiunta la sfida di Vegesim, ma non la vedremo in questo episodio Ci sono ancora 20 giorni per questa sfida, sto cercando di capire un po' come va questa sfida Quindi la vedremo più in là se la vedremo, anche perché come sapete le sfide che ci vengono date sono carine Sì, ma poi effettivamente nel nostro gameplay non hanno poi chissà quale grande scopo Oddio, tra l'altro state vedendo come aumento e abbasso il volume del mio P2 Allora, la nostra Michelle... tra l'altro lei potrebbe fare la sfida di Vegesim Io la manderei un attimo... ma che fa? Ah, si deve... ci abbiamo Michelle... no, Nicole Feltz in casa Quindi possiamo innanzitutto prese... ok, loro mi sa che non andranno molto d'accordo Maxis ha aggiunto Country Kitchen, vediamo com'è questa Country Kitchen Magari la salviamo tra i nostri preferiti Mmm, direi di no, non ci serve Cosa fa? Cosa fa? Chiacchiera con Nicole, perfetto Sì, insulta Oddio, è super annoiata la nostra Michelle Io direi che sono le 19.47 Al PC magari ti facciamo chattare con qualcuno Socializza, chatta con... oddio, no ragazzi C'è Nicole che vuole parlare, va bene, parliamo in bagno, dai Abbiamo capito e compreso Ma si stanno litigando, fatemi capire Chiacchiera con Nicole, no, in realtà no Impara a conoscere Chiedi del fichi fichi Lei è super annoiata ragazzi, lamentati della noia Discuti del cambio di quartiere Ah ragazzi, aggiungetemi su Origin Vorrei aumentare e ampliare le mie amicizie su Origin Quindi chiunque gioca a The Sims e quindi ha un profilo Origin Aggiungetemi pure Cristina si è svegliata, perché? Perché vai a dormire qui? Non ti vogliamo Vai in bagno Ovviamente lei ora andrà in quello di Michelle, no Allora, vai in questo bagno Ah, Simone si sta mettendo a dormire Vai in questo bagno Michelle, nel frattempo, sta parlando Dov'è? Seguiamo Ah, sono qui, giustamente Potrebbero diventare amiche loro? Sì, io direi proprio di sì Sfoggia l'abito Lei è flertante, ragazzi Ecco, vedete già col fatto che è flertante Un gioio che volevo fare tra lei e Simone Già mi viene l'idea di fare un amore lesbo Vabbè, ma non lo faremo, non no Mi mantengo Facciamole diventare prima amiche, prima di tutto Lamentati dei genitori Cristina dove va? Va a dormire nel suo letto, per fortuna Michelle, Michelle Michelle, sta andando Di fondi una diceria Spettegola Ah, tra l'altro il giorno dopo è domenica Quindi non andremo Loro se la ridano Non andremo ancora a scuola, per fortuna Consigli e attività divertenti Spettegola Confessa la paura dei vampiri Ah, ragazzi, ovviamente in una casa di adolescenti Non può mancare la console Console da DJ La tabula... no Come fa... vediamo... facciamo... faccio prima a fare così Mostra tutto, no Elettronica Nine Qui ci sono i giochi I giochi Dove sono i giochi? Non ci sono... ecco, santa miseria Ma se io tipo la metto qui, poi ci possono giocare Proviamo A giocare con Nicole Fels Gioca una partita, gioca una partita online Gioca una partita multigiocatore Con Nicole Fels, appunto Sì, possono giocare Ah, ecco Però non si siedono Sedervi no, eh Non vi piaceva proprio Vabbè, però fanno amicizia, magari Va, finito, già Giocherella Condividi foto Spaventa Porge omaggi Ah, lì stanno a fa' casino Chi è? Ah no, siamo noi che stiamo facendo casino, mi sa Ebbene sì Perché? Vicini rumorosi Ah, no, no, no Non siamo noi È il papà di Nicole Bussa la porta Beh, direi di sì Incazzatissima La nostra gressina Howard Tra l'altro è affamata E ora conosceremo anche il papà di Nicole Perché uscirà Lamentati furentemente del rumore Perché ha imparato Mi dispiace Benissimo, almeno è stato carino Abbiamo fame Però sono ancora le 23 Io direi che puoi fare Uno spuntino Magari veloce Fai un pasto veloce Magari dei cereali Lei sta bevendo Seduta sul letto Che tristezza Mentre il nostro Simone È al computer Con tanto di Camera che hai No, non puoi Devi andare Al computer Tutti in camera di Michelle Giustamente Perché è la camera più bella Tra l'altro hanno una casa enorme Ragazzi Loro Dormi Cristina sta manduando E poi la facciamo andare A letto Così dormono tutti e tre E la velocità Va molto più veloce Così poi ci possiamo Occupare appunto Di una nuova giornata Da sim Tesoro Lezione di sim Lezione di sim Romantico Sì È flertante Senza Così Balla Esercitati Assumi Metti nell'inventario No Vorrei che dormissi Forse non ci siamo capiti Ok Tutti e tre dormono Così appena ci svegliamo Possiamo Effettivamente Giocare un po' Forse con Ma perché si sveglia? Così ha Secondo me si cucina Per sé Acquisita l'abilità Di cucina E questo Potevamo immaginarlo No? Sì Si è cucinato Maccheroni al formaggio Che schifo Alle due di notte Vabbè più o meno come Quando schimichiamo Dopo la discoteca No? Che andiamo Abbiamo bisogno proprio di quella Di quel mangiare schifoso Ecco Non starnuto In diretta Ne è arrivato Ne è arrivato un altro Ne è arrivato un terzo Che culo Sicuramente Cioè Avrete sentito come Tipo si sono rotte le casse Tipo Oddio L'allergia Primavera No ragazzi Oddio Ne arriveranno altri Ne sono sicuro Sì ma le tre di notte Tesoro Ma non si può spegnere Questa Pannello di controllo Impostazioni Ah ecco infatti Spegni Dormi Non ce la fa dormire? Forse sì eh Allora Con Cristina Tra l'altro Dobbiamo Organizzare un raduno E secondo me Ci può stare Perché Ovviamente Sarebbe molto interessante Così si conoscono tutti Quindi La facciamo svegliare Anche se sono le 4 E 45 Io nel frattempo Mi sono Anche soffiato il naso Perché ovviamente L'allergia Non viene mai Da sola Cioè viene insieme Poi a tutto Un colanaso Eccetera eccetera Con vari Starnuti Come avete potuto Sentire Le sto facendo Preparare la colazione Così poi è pronta Anche per la nostra Michelle Pizzaz Si ma allegri Michelle va in bagno Nel frattempo Ok Lei ha Preparato Il tutto Tesoro Allora Non ti fare la doccia Vieni a mangiare Così Fai colazione Insieme a Cristina Più o meno Finchè ci raggiunge Ah lei Gran signora Con la camicia da notte Che belle queste inquadrature Adoro Che bella la loro casa La casa dei sogni Praticamente Allora Spettegola un po' Poi Lamentati del piatto No Entusiasmati Per il pasto Che ti ha cucinato Non solo ti svegli con La colazione pronta Discuti degli interessi Visualizza i club Vabbè Tanto fa parte solo Degli adolescenti Complimento Sincero Facciamo aumentare Diciamo l'amicizia Tra le due Annulla l'iscrizione Va bene Tesoro Cioè Rallegra Racconto una storia Scatto una foto insieme Adoro Chiedi del fichi fichi Mangiano in simultanea Ragazzi Conversazione profonda Devono aumentare Decisamente L'amicizia Aneddoto divertente Esprimi ammirazione Ci sta Dai Una bella Ecco Sono diventate buone amiche Adoro Lei di cosa ha bisogno Di farsi una doccia E di andare in bagno Allora togliamo i muri Così E facciamo Andiamo al gabinetto Perché tanto ha finito di mangiare Michelle nel frattempo Finisce di mangiare Poi magari le facciamo Ripulire un po' il tutto Oddio Lei sta tipo puzzando Quindi vai subito A farti una doccia Ok Michelle Pulisce per tutti Adoriamo questo piatto Magari anche Che dici Questo Lo riponiamo Ah che bello Abbiamo Sì No Vabbè L'imbarazzo Pari a zero Lei è super contenta Sono le 9 di mattina Della domenica Possiamo Iniziare Il raduno Ragazzi I membri del club Sono stati avvisati E sono in arrivo Tanto abitano Sul nostro pianerottolo Quindi direi Che sarà anche Abbastanza Semplice Facciamo una doccia Con lei Così non si fa trovare Magari In pigiama Lui Ha bisogno Di docciarsi E non di mangiare Eccolo Il nostro Ah solo Salvatore Bida In effetti Fai una doccia Eccoli I nostri due Cappuccio I fratelli Cappuccio Salvatore Bida Dove sta andando Al computer No Io vorrevo Vorrevo Ascolta musica Ok E vorrei Balla tutti insieme Ah in tutto questo Ovviamente La nostra Nicole Fels Non fa parte del E' vero Del club Ecco Una cosa molto bella Durante i raduni del club Che mi piace E' appunto Ballare tutti insieme Perché così Fanno amicizia Davvero tanto Tanta amicizia Tra di loro Eccoli qua Tutti e sei Che ballano insieme Un po' di musica Vediamo Il volume Cambia stazione Regola il volume Massimo Si sente Si sente Allora Quali sono Svolgi dieci attività Del club Bene Possiamo iniziare Con un Complimento sincero A Salvatore Bida Poi una Raccontare Raccontiamo una storia buffa Poi Complimento sincero Ancora Guardate il nostro Simone Come si Come si sbatte Diciamo Anche il nostro Salvatore Bida Bellini Racconto una barzelletta Sui vecchi tempi Nel frattempo Stiamo parlando Con i nostri Ospiti Diciamo Racconto una storia Stravolgente Chiedi del fichi fichi Racconto una storia Convolgente Infatti Lei Che è la regina Diciamo E' quella che amicizia Un po' più con tutti Tranne con Salvatore Bida Adula Conversazione profonda E io direi Che possiamo Tipo Basta ballare Possiamo con Simone Andare in camera Tipo Vai qui E volevo Vedere se riuscivamo Ad invitare lei Balla con Balla con Rospa No Allora Fai pausa No Non voglio che Devi fare qui In vita Insegna a ballare Oddio Amichevole Chiedi del Chiedi del fichi 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 Discuti No Lamenta Tipo Giamaggi Racconto una storia Di gruppo Ma no Io volevo parlare Solo con Rospa Va bene Basta Cioè non fa niente Sì infatti Magari Basta ballare Possiamo Tipo Abbracciare Salvatore Ok E magari Vai qui Insieme No Tutti insieme Non possono andare Chiacchiera qui No Qui c'è Salvatore Che deve andare in bagno Ragazzi Ecco qua Allora hanno finito di ballare Scusate No perché volevo isolare Un po' il tutto Allora Chiedi della sua giornata Volevo fare Un po' un'interazione Con la nostra Rospa Chiacchiera qui Non ce la facciamo Ora sono in questa stanza Che giustamente Li volevo isolare Ma non ci sono riuscito Ok Parlano tutti insieme Chi se ne frega Noi nel frattempo Rallegra Complimento sincero Fai un'imitazione Giustamente sono in gruppo Fai una storia Racconto una storia buffa Condividi foto Condividi foto ancora Spettacola sui vicini La nostra Cristina È affamatissima Però Riesce ad avere Un bel rapporto Diciamo Con tutti i componenti Del suo club In realtà Porgio Omaggi Chi è il fichi fichi Simone Dai aumentiamo Così magari aumenta Anche l'amicizia Tra Simone e Rospa Ma non sembrerebbe Ma io non Se non volessi Io vorrei Isolarmi con La nostra Rospa Tipo no Spettacola Discuti Nel frattempo Jasmine No Michelle Perché Jasmine Sta facendo un cazzo Lei sta solo Ascoltando Io direi che possiamo Innanzitutto Fare Una partita Multigiocatore Con Girino Cristina E Salvatore Bida Così da Lasciare Diciamo Un po' Gli altri due Parlare Tipo Vede Ah Finalmente ce l'abbiamo fatta E con lei Possiamo andare Magari Qui Nel Corridoio Vai qui Insieme Anzi no Facciamo così Siediti E chiacchiera Qui Li aspettiamo Guardate con Con le luci Così Che bella Questa camera Ok Ah Finalmente Ci soliamo Tipo Ciao Rospa Perché lui è un sim romantico Vi ricordo In tutto questo Complimento Sincero Racconto Una sbarzelletta Rivoltante Magari nel prossimo episodio Torneremo anche un po' Da Camille Rouge Conversazione profonda E io direi anche Un bel Complimenta Per l'aspetto E anche un bel Flirta Mentre gli altri Giocano Noi intanto Facciamo amicizia Con la nostra Rospa Che io trovo Molto bellina Che ho vestito Con gli abiti Di The Sims 4 Gita all'aria aperta Dato che per me Erano diciamo Nuovi E un po' Snob E questo L'avevamo capito Rivela la cotta Belli Chiedi della carriera Ah lei lavora Ovviamente Fai un'imitazione Aumentiamo anche L'amicizia Romantico Complimenta l'aspetto Lei diciamo che è molto bella In realtà Perché lo è in effetti Romantica Ah è vero Perché anche lei è romantica Da woman burger Sì 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 Lo sapevamo Lo sapevamo Discuti del Tesoro C'è un interesse Romantico La prima cotta Chiedi della sua giornata Altra scelta Romantico Non vorrei Stringi Offri una rosa Ci può stare Non vorrei fare Rivela una cotta adesso Perché ho paura Di rovinare Il tutto Dove vanno Dove vanno Lui si sta pisciando Addosso Ah escono fuori Dove vanno Ma che fine hanno Dove sono C'è no ragazzi Ma vedete dove cavolo Sono andati Oh signore Vabbè L'importante è Ok Sono tutti e due No Lei è flertante Lui no Lui ha bisogno di pisciare Tesoro Se torni qui Ci fai un gran Favore Allora In questo momento Ci sono Cristina Howard Ma gli altri Dove sono Simone Gli altri Sono andati via Ragazzi Adoro Cioè proprio Non ci hanno cagato Di striscio Questa festa Non è andata poi Così tanto bene Mangia macedonia di frutta Ah eccolo Salvatore Bida È là Esprimi ammirazione Ci parliamo un po' Impara a conoscere Esprimi ammirazione Vegetariano Ah eccolo Anche l'altro Adula Ovviamente abbiamo fatto Già le 10 attività Del club Dov'è il nostro Simone È andato a fare Pipì Ok Ora sta andando A mangiare Giustamente Ah Guardate lì Chi c'è Ci sono La nostra Michelle Si chiama Michelle Sì Madonna ragazzi Io ho un po' Un problemi con i nomi Con questa storia Racconto una storia Buffa Perché più 5 Discuti degli interessi Chiedi del fichi fichi Spettacola sui vicini Quindi abbiamo Cristina che se la sta un po' Facendo con Salvatore Bida Ci può stare Rallegra Che è l'amico di Simone Michelle che se la fa con i cappuccio Qui con Rospa cappuccio Vi ricordo che in tutto questo Michelle Entusiasmati per il pasto Discuti delle tecniche di ballo Folle e malvagio No ma bene Sono belle aspettative Insomma Racconto una storia buffa Li facciamo diventare un po' amici Cristina No Salvatore è andato Ecco la Rospa In tutto questo Lei è flirtante Vediamo se Complimenta l'aspetto Quindi stiamo rendendo Abbastanza Pubblica Questa cosa Tipo Davanti a tutti Stiamo flirtando Tranquillamente Quindi Anche davanti al fratello Che però Preso da Michelle Pizzaz Non se ne sta Sbattendo un'emerità Pizzaz Proprio Adoro Lei flirtantissima Eh sì Complimenta l'aspetto Rivela la cotta Ora lo possiamo fare Da buon adolescente Non è andata a buon fine Ragazzi No Recupera Extremis Subito Sì L'abbiamo recuperato Per fortuna Era troppo presto Oh oh È flirtante Ragazzi Vabbè Io direi Non Posa sexy Vai Simone Che dobbiamo rimettere in forma Ragazzi Assolutamente Quanto prima Molto flertante Lei E quindi ragazzi Offri una rosa Lei è molto flertante Ma Oddio no Non vorrei mai Però Complimentati per l'aspetto Romantico Ma non c'è tipo Stringi Ci sta Ci sta E Tipo Poi Una domanda spinta E Ma se ne è andata Abbracciola Che forse dovete aumentare anche No Ci sta cagando di striscio Allora Vediamo con Cristina Quante ore sono passate Per il raduno Uffa Volevo fare almeno 12 Amico Che stai a fa Abbraccia Impara a conoscere Esprime ammirazione Beh aumentiamo un po' le amicizie ragazzi Oddio Cristina Howard Se ne è andata a dormire Perché teneva più sonno Che il resto Amante dell'aria aperta Lei deve pisciare subito No volevo fare le 12 ore Così da Fare il primo grado Lì del Come si dice Dell'aspirazione In tutto questo Michelle E amica Con Salvatore Con Girino Ancora no E con Rospa Ancora no Ha un po' di sonno Quindi io direi Che la possiamo lasciare Andare a dormire Qui ci sono I nostri tre Maschietti Alfa Tra virgolette Cosa fa Balla E allora io direi Che puoi Pausa Possiamo Invitare a ballare Invita Rospa Così aumentiamo un po' L'amicizia ragazzi Che qua Però è flertante Uff Cioè nel senso Sono tutti e due flertanti No Lui è molto flertante Quindi flertiamo Scusa E ancora romantico Complimenta l'aspetto Lei è un po' Snob Appunto E quindi se la sta tirando Ma noi Ci proviamo Sempre di più Complimentati per l'aspetto Romantico Altre scelte Scambia i numeri di telefono Stringi Primo bacio Vai Attacca Simone Attacca Da buon Latin lover Devi Attaccare Subito Subitissimo Che bella questa scritta Fiducioso Eh lui Vediamo se è vero Ci sarà sto primo bacio Sfogge i muscoli No romantico Non c'è stato il primo bacio No Forse perché era Ok Stringi Loro si sono svegliate Lei è molto flertante Ragazzi Battuta da bordaggio Non c'è il primo bacio Non sta da fare Stasera Va bene Va bene così Dai Non voglio Non voglio Fare troppo Ah In tutto questo Siamo riusciti a fare Il primo step Di questa aspirazione E ragazzi Diciamo che possiamo Siamo anche a questo punto Non ci serve più Terminare il raduno Così che loro se ne vadano A fare A quel paese Sono un po' Irritati Perché c'è Casino Ovviamente E come al solito Andrà sempre la nostra Christina Awards A lamentarsi Del rumore Michelle Cosa deve fare Nulla Deve dormire Simone Deve dormire Christina Deve pisciare Va bene ragazzi Allora dicevo Con questa immagine Di questo Appunto Di questo raduno Dei nostri Adolescenti Di città Possiamo chiudere Fatemi sapere Nei commenti Cosa ne pensate Di questo flirt Tra Simone e Rospa Che sta un po' Facendo Se la sta un po' Tirando troppo Secondo me E fatemi sapere Anche se magari Potremmo accoppiare Christina Con Salvatore Bida O forse Michelle Con Girino O Salvatore Bida Non lo so Dobbiamo accoppiarli In qualche modo Eccola qui Faccio lamentati Lamentati furentemente Del rumore Christina E il papà di Nicole Non saranno Proprio super amici Ehi ci vivo anch'io Va bene Ciao tesoro Bene ragazzi Un bacio dal vostro Danilo Danzo E ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti